Ciao a tutti ragazzi, io sono Klaus e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo con Life is Strange con la nostra Max. Ci avevamo lasciato l'ultima volta che stava in compagnia della sua panchettara preferita mentre si fumava un bel cannone. Vediamo oggi cosa succede, il faro di inizio gioco. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Una bella giornata. Andiamo a pescare? Che dici? Ci sta eh? Dovale, altro che. Una bella partita a pallone. Ciao. Mamma mia. Che bravo. Che... Ma scherzo in testa. Questa è un'ottima salsa? Mi ricorda di quando eravamo figli. Come va, Slowpoke! Mi hai dato del Pokémon? O della Lumarca o qualcosa del già? Mi hai chiamato come il Pokémon. È chiamato come il Pokémon. E' l'esercito stanno passando durante il mio canale. Sì, andiamo a capire l'indicazione, sì, magari, ecco. Vabbè, tu hai le visioni, che vuoi davanti. Warren, che ragazzo? Eh, te l'ho pestato! Keck, vabbè, sei una keck, vabbè. Gli uccelli sono sempre fortunati, se sai cosa voglio dire. Vabbè, lasciamo a pelle. Posso vedere? Mi cassa? Vabbè. Hai un santo, Pete! Pete? Sei in un buon mood. Vedendo che il mio step dork si giocava mi fa felice. Non sono così brava come tu. E David è, inoltre, un step douche. Scusate che hai avuto l'esperienza. Devi vivere con lui. Ha sempre stato così? Ah, proprio un vizio di famiglia che siete drogati. È pazzito con chi è. Scusate che siamo in un po' di Kate Marsh oggi. Siamo lì. È bella. È bella. Solo quella bella che lo ucciderebbe. Ha un tipo di agenda strada. Ha molti file segreti. Rambo ancora pensa che sia chiamato l'intelligenza. Hai fatto un pico? Vabbè. Cartelle? Eh, non farei la finta tonta. Vabbè dai, cartelle. L'avevamo già visto. Però... Ah, se l'ha accorta. È uno storico. Ma lei lo fa. Ma lei lo fa. Monito. Ti sei mangiata la Herb. Quindi ti spia anche quando ti spogli? No. Cosa è il segretto Nathan? È un elito d***o che vendita buone d***e con laxative. Ah. E mi ha dosato con una droga anche. Cosa? Eh. Doveva fare cose... Cosa è? Drogando? Vabbè. Avete capito. Che pietro? È un diabo. Lo pensavo, era così avvenuto che si sarebbe un liceo squadro. Avete zaino di tempo? In realtà sì. Mi hanno pagato molto. Ma ho pensato di avere più per me e Rachel, che allora. Quanto? Quanto ti dico? 3 grand plus interesse E prima che ho avuto un po' di Nathan Cazzo Doste la mia dritta con un pochino Dio Chloe, non posso credere questo Cioè, devo Che ti devo dire? Vorrei fare... Vabbè, la proseguita Vabbè, la procedura Come l'ho detto? Dai Come l'ho detto? Tutto era un pochino Ho cercato di incontrare gli occhi E ho scoperto una lampa Nathan è freddo, quindi ho deciso di Bumrush la porta e riuscire Max, era inizio Proprio insano Vabbè, le traduzioni E' sbagliato, eh, mamma Certo, il tuo... Talento, devo osservare l'obbio Chiamiamola polizia Sì, com'è... Sì, com'è... C'è meglio C'è meglio Sì, com'è poi Cioè, no... E' sbagliato Sei un bel po' incasinata, devo dire. Ma non ero io l'altra migliore amica? E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. D' hiero. E' vero. E' vero. E' un po' più spedita, capisco che ci ha bello un po' Si, sto cercando di provare non ho mai visto una storia come questa in Lonectus E' vero che c'è il piede di qua, ma straverto vero. Questa è la vostra, non è davanti da un'altra stessa. Va bene. Vediamo già. Mi sento che il piede mi è freddo. Ma cazzo. Ok. Questa è la vostra. Ma chiamate l'Ano. E poi io ho fatto. Per colpa sua, sto morello tante di quelle volte. Oh mio lord. Il tornado è tornato. Il tornado è tornato. Il tornado è tornato. No. 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 Ma ha cortato la strada. Cazzo. c'è la capacità di riuscire E' un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? La città sarà ripetata da un tornado. L'Oregon ha avuto 5 tornado ogni 20 anni. Hai solo zonato. Non, non, io ho visto. Poi sentire l'elettricità in l'air. Come on, prendi un respiro, ok? Chloe, non sono un ucciso. Ma c'è qualcosa di più che devo dire. C'è qualcosa di più. Parlare con me, Max. Mi avevo la stessa visione prima in classe. Quando mi fuori, ho scoperto che potremmo il tempo. Non, come si è tutto. Non, come si è tutto. Ma, chi è... L'era? Si, tu mi sembra, come tu credi ti salvati in la prisa? Con il tempo, sì, certo. Beh, ti senti che sono... Ah, tu si senti... Sì, te senti... ...fatti, te soppi... I compresi un啟i. Ok, è claro che tu sei un gigante ora per un grande pensione, ma questo non è un animo o un video. Poi non ha delle queste powers, Max. Non sapevo quello che ho, ma ho. E ho un città. Noi, non sono mai fissuto. È stato un giorno di vero. Cosa è questo? Snowflakes? È come 80 gradi. Come? Un cambiamento climatico. O una paura viene. Max, cominciai dal comando. Dicami tutto. Sì. Ah, adesso ci vediamo. Ok. Sì. 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 L'amico Warren è il tuo pioniere. E' la studetta che è qui. Ci sta tutto, dai. E' la Katakatsu. E' quello che si fa il bong. Ecco, vi offri un po', no? gusto. Sono anticipato. Dovido a illegal costro. Il mio cane dormo preatamente in otre. E' un'olrebzione. e' un professore FIT!" Sono già che mi daranno un copilaggio di questa canzone, la toglierò, no, vedrete, registro di classe? No, informazioni personali, credo abbia salvato, no, ah è finito, bene ragazzi, questo era la fine dell'episodio 1, crisalide, malauguratamente abbiamo finito, peccato perché volevo, cioè mi ero molto appassionato, e niente, va bene, aspettiamo che esca il secondo episodio, deve essere cinque se non sbaglio, non lo so, va bene, quindi spero che uscirà più presto il secondo, e ovviamente ve lo porterò visto che vi è piaciuto tanto, e niente, ricordatevi, fatemi sapere se vi è piaciuto il video lasciando un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale per seguire le novità, e noi ci rivediamo a un prossimo video, ciao a tutti. Grazie.